Buongiorno a tutti, Stefano Menghinello è il direttore di una delle direzioni importanti centrali dell'ISTAT, io sono Mauro Gasparini e insegno statistica al Politecnico. Quindi oggi parliamo di statistica, entrambi i statistici anche se su materie, su specializzazioni un po' diverse. Oggi parleremo di statistica, che è una scienza importante, che ha delle lunghe origini nella probabilità e anche in Italia ha avuto esponenti importanti, ma che ultimamente è esplosa come componente fondamentale della detta science, della scienza dei dati. Anzi, noi tutti i statistici si muovono un po' le dita perché avremmo dovuto inventarlo in questo momento, solo che non siamo stati così fantasiosi ai tempi, veramente l'hanno inventato i statistici, ma l'accezione che c'è è associata ad altre idee. Comunque rimane il fatto che la statistica è una componente importante della detta science che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, di pensare e di comunicare in ultimi vent'anni. La statistica si trova in molti campi diversi. Io insegno, d'accordo con i tecnici, parlo con gli ingegneri, faccio anche consulenza di tipo di ingegneristico e in particolare provengo da un'esperienza di ricerca biomedica, quindi statistica nella biometria, nella biomedicina, in particolare per le prove cliniche, quindi per quelle sperimentazioni che fanno le industrie farmaceutiche o gli enti di ricerca per dimostrare sicurezza efficacia e altre proprietà come la personalizzazione di un farmaco, di una nuova terapia in particolare. Questo non c'entra nulla con l'argomento di oggi, però era per dirvi che i campi di applicazione della statistica sono tanti, per esempio il mio è la statistica, quello di Stefano invece è la statistica ufficiale, c'è anche lì, statistica ufficiale sono due parole che spaventano perché magari sono un po' seriose. In realtà sono cose molto importanti, molto importanti sulla vita di noi perché tutti i giorni nel telegiornale sentiamo parlare di inflazione, disoccupazione, rapporto debito-pil, commercio estero e sul lato più sociale, i disoccupati, di nuovo, la missione sia economica che sociale, importantissima. Quelli che hanno vent'anni non fanno niente, che non sono né in training, education, né in informazione, né al lavoro e questi sono importanti componenti, per esempio questa è una statistica sociale importante in cui tutti noi siamo al corso. Bene, queste statistiche le produce, le producono soprattutto a livello centrale perché queste sono statistiche più dedicate alla macroeconomia, quindi nel settore generale dell'economia di un paese, le producono gli istituti centrali di statistica nei paesi sviluppati. E l'istituto centrale di statistica italiano, l'ISTAT, ha origini gloriose ed è uno degli importanti istituti in Europa, molto rispettati, molto anche rispettati dal punto di vista tecnologico e quindi avere un direttore dell'ISTAT che ci parla oggi un po' per i miei studenti che sono invitati a venire e saranno premiati per essere venuti, ma anche per il pubblico in generale spero che sia importante e che ci possa dare un'istituto. Allora Stefano è direttore, dicevo, di una direzione centrale per la variazione delle statistiche economiche e anche del PNRR, quindi sapete che non è ancora entrata nella vita di tutti, anche se cominciamo a capire la dimensione enorme di questa operazione di finanza e di booster pubblico che ha sull'economia e sulla società del PNRR, magari ce ne parlerà un po' anche Stefano. Io concludo la mia introduzione chiedendo a Stefano di essere appunto il più divulgativo possibile, ma lui sa benissimo come fare, lo interromperò ogni tanto se non lo interrompete voi, quindi le domande del pubblico sono benvenute, altrimenti ogni tanto magari lo interromperò per cambiare un po' il discorso, questo dovrebbe essere un dialogo, ma in realtà noi vogliamo dare il giusto spazio al nostro ospito. Prego Stefano. Grazie, buongiorno a tutti, allora io lavoro all'ISTAT nel 1998 e ancora non ho capito cosa vuol dire essere uno statistico ufficiale, quindi se non avete capito questa parola non c'è problema, probabilmente presumo che voglia dire che siamo delle persone che certificano i numeri, quindi in qualche modo abbiamo le competenze metodologiche e tecniche come un accademico, ma anche diciamo giuridico-amministrative per poi anche certificare un po' i numeri. Vi dico un piccolo segreto che abbiamo condiviso con il professor Gasparini, che nel titolo volevamo mettere i dati ISTAT di valore, no? Perché ovviamente i dati ISTAT, se non sono di valore i dati ISTAT, quali sono dati di valore? Io mi sono un po' opposto a questa cosa perché è utile anche dimostrare che i dati ISTAT hanno un valore, perché l'ISTAT è stato fondato negli anni 20 ed è stato per 70 anni il monopolista nella produzione dei dati, quindi se uno cercava un dato c'era quello dell'ISTAT, di qualità non di qualità, solo l'ISTAT produceva i dati, l'ISTAT storicamente aveva il centro di calcolo più grande di Roma, tra tutti i ministeri avevamo un centro di calcolo centralizzato, un computerone, un cervellone che ci invidiavano tutti a Roma e poi io sono entrato nel punto del 1998, piano piano sono venute fuori le nuove fonti informative, ancora non in modo così dirompente come negli ultimi anni, ma fondamentalmente l'ISTAT ha perso la posizione di essere monopolista dei dati, i dati sono solo quelli dell'ISTAT e viviamo in un mondo appunto dove noi siamo circondati dai dati e quindi ci sono quelli dell'ISTAT, ci sono quelli di altre fonti, dati pubblici, dati privati, dati integrati, è una realtà estremamente complessa in cui a mio avviso però l'ISTAT continua ad avere un ruolo che non è quello del monopolista ma è quello che in qualche modo dà un po' il parametro, il benchmark rispetto agli altri dati. La presentazione insieme al professor Gasparini l'abbiamo pensata e articolata in 10 tappe, non vi leggo le tappe perché sennò perdiamo 10 minuti solo a leggere, ma abbiamo poi cercato un percorso che nasce da problemi più di carattere concettuale e di carattere metodologico, poi c'è una parte intermedia dove vi avrei dovuto far vedere il sito dell'ISTAT ma per problemi tecnici locali ma anche globali del server dell'istituto non è la giornata migliore per farlo ma ci sono delle slide che illustrano il sito e poi ci sono alcuni dati che sono quelli dell'area economica, quelli più connessi, quelli che vedete più spesso in televisione nonché quelli che sono più rilevanti da un punto di vista tecnologico produttivo, voi siete ingegneri e alcuni dati nuovi, quelli diciamo sugli SDGs, Sustainable Development Goals, Indicator che sono quelli che servono ad andare oltre la misurazione del PIL. Allora andiamo avanti, allora io ho un approccio un po' non ortodosso, allora se dobbiamo parlare di dati di valore dobbiamo prima capire il valore dei dati, sennò non ha senso parlare. Allora dal mio punto di vista il valore dei dati si misura molto sulla base della loro rilevanza in un processo decisionale. Cioè il dato in quanto tale può essere bello, esteticamente interessante, sono meglio di secondo me, però il dato è importante nel momento in cui entra in un processo decisionale. Ora voi pensate quante volte in un processo decisionale di qualsiasi tipo, individuale, collettivo, a livello locale e nazionale, utilizzate i dati e pensate se i dati che voi utilizzate, se vi siete mai posti il problema se sono dati di qualità. E anche tutte quelle volte in cui voi decidete qualcosa senza dati, è ancora peggio perché non avete neanche un riferimento. Esistono culture diverse a livello europeo, in Inghilterra non escono di casa. Se noi vogliamo sapere se piove, apriamo la finestra. In Inghilterra guardano le previsioni meteo. Quindi ci sono paesi che hanno una cultura del numero decisamente superiore alla nostra. In Inghilterra è anche una cultura utilitarista, basata sul calcolo marginale di ogni vantaggio. Noi siamo mediterranei, a Roma di più di Torino, però siamo sempre italiani quindi a noi i dati ci danno anche un po' fastidio perché sono un po' rigidi e un po' anche inespressivi. Tuttavia pensate che tutte le volte che voi prendete una decisione utilizzando dei dati che sono incompleti, incerti, distorti, la decisione che state prendendo è sbagliata. E questo è un qualcosa che è totalmente sottovalutato sia a livello individuale, a livello collettivo, la regione Piemonte deve prendere una decisione su una certa politica, utilizza dati che o sono incompleti o non sono corretti, che decisione riesce a prendere. A livello governativo è la stessa cosa. Quindi secondo me i dati danno quella conoscenza oggettiva, anche se non è ovviamente completamente oggettiva, che consente di dare una risposta autorevole e coerente ad una domanda complessa. Veniamo però a questo punto alla vera domanda che vi volevo porre. Ok, ma un dato di qualità ci può prendere decisioni di qualità, ma come si fa a riconoscere un dato di qualità da un dato non di qualità? Allora ho fatto il caso della cassetta di mail, è chiaro che se voi andate in un supermercato a comprare una mela penso che nessuno prenda la mela marrone, a meno che non ci deve fare la marmellata un po' strana, diciamo. E quindi è facilissimo vedere una mela non di qualità, ma di quei numeri. Qual è sbagliato? Non lo sapete, a parte che magari sono in ordine e avrei dovuto far mettere dei numeri non in ordine progressivo, però tendenzialmente è estremamente complicato capire quando un numero è giusto o un numero è, diciamo, sbagliato o è di qualità e non di qualità. Quindi che cosa rende un numero di qualità? Fondamentalmente tra i fattori, che poi sono tutte cose che sono codificate anche a livello, insomma, di codici deontologici della statistica ufficiale, però qui ho cercato di essere un divulgativo. Allora, le cose che rendono un numero di qualità è l'indipendenza e l'autorevolezza scientifica dell'ente produttore. Ancora non ho parlato di Istat, indipendenza e autorevolezza scientifica. Potrebbe essere un ente di ricerca, esiste anche una rete di uffici comunali di statistica, ci sono anche uffici regionali, ci sono aziende private. Nel momento in cui uno è indipendente ed è autorevole può produrre un dato di qualità e un altro indicatore di un dato di qualità è non solo pubblicare il dato, ma pubblicare anche i famosi metadati. I metadati ti dicono in modo trasparente come il dato è stato costruito. Noi non abbiamo paura di dire come i nostri dati sono stati costruiti e tra l'altro noi diamo anche la misura dell'errore nei nostri dati. Questa è una cosa un po' più sottile, c'è l'Istat, i dati di lista sono giusti, no, sono sbagliati, però c'è una misura dell'errore. Gli altri dati sono giusti, forse, ma non vi danno nessuna misura dell'errore, quindi rimanete nell'incertezza. Ovviamente questo ente fantomatico produttore di questi dati dovrebbe avere metodologie statistiche rigorose per tenere sotto controllo distorsione, sotto copertura, problemi di qualità e investire significativamente nella qualità dei dati grezzi. Negli ultimi anni sono usciti un sacco di, non so se conoscete, banche dati commerciali private, io ne ho conosciuta una, sono vent'anni che li conosco, si chiama Burro Van Dijk, è una società belga che produce dati di bilancio, quindi mette insieme i dati di bilancio di tutte le imprese del mondo e li integra con gli assetti proprietari. Quindi stanno nascendo un sacco di banche dati commerciali. Burro Van Dijk, che ha inventato questa banca dati Orbis con i bilanci di tutte le imprese del mondo, non si occupa del problema della qualità di questi dati, cioè non va a vedere se quel dato di quell'azienda è giusto o non è giusto perché come risorse, richiederebbe troppe risorse, come margini di reddittività non gli conviene. L'ISTAT sistematicamente investe sulla qualità, non gli interessa realizzare un utile, lo facciamo comunque perché è la nostra missione istituzionale. Allora da questo punto di vista io ammetto e sono abbastanza liberal rispetto ad alcuni colleghi che i dati dell'ISTAT non sono gli unici dati di qualità, ce ne sono molti di qualità, l'importante è che rispecchino quelle caratteristiche, però a questo punto diciamo in un cesto di mele sane, la mela d'oro sono sicuramente i dati dell'ISTAT, cioè sono quei dati che per missione istituzionale dell'Istituto sono sicuramente di qualità e quali sono le caratteristiche che li rendono di qualità esattamente la conferma degli aspetti che vi ho detto. L'ISTAT è un ente di ricerca autorevole e indipendente e le sue attività non sono condizionate da decisori politici. Quando esce un comunicato stampa dell'ISTAT nessuno sa quel dato fino al momento esatto in cui esce e quindi questo implica che non siamo condizionati dal fatto che se il dato non piace non esce. il dato esce e poi può piacere o non piacere. La pubblicazione dei dati è sempre corredata dai metadati che illustrano in modo trasparente come è stato costruito il dato, è sempre dichiarata l'affidabilità delle stime prodotte, noi diamo sia valori puntuali ma anche intervalli di confidenza. Un intervallo di confidenza ti dice che la probabilità che il valore vero di quel parametro stia in un intervallo tra i due numeri è superiore al 90, 95, 99%. Quindi è meglio avere un dato puntuale che probabilmente è sbagliato o meglio avere un intervallo di confidenza sufficientemente stretto a cui è attribuita un'elevata probabilità? Sicuramente è meglio la seconda ma in questo caso preferiscono la prima perché si fa prima. però noi diciamo pubblichiamo entrambi i dati e ovviamente utilizziamo concetti e definizioni standard che sono definiti a livello internazionale e noi stessi abbiamo degli incarichi, insomma i colleghi, io stesso, degli incarichi a livello internazionale nel definire i manuali che poi determinano i sistemi di misurazione a livello mondiale. Io personalmente ho contribuito al manuale sulla produzione delle statistiche delle multinazionali a livello europeo perché a un certo punto volevano adottare un concetto troppo semplificato veniva fuori che metà dell'economia italiana era controllo lussemburghese perché tutti gli ordini sono lì ho detto vabbè lasciamo perdere, ho stretto la mano alla collega dell'ussemburghese però non mi sembra il caso ecco quindi diciamo noi siamo molto diciamo proattivi come istituto noi abbiamo un'ottima tradizione proprio di ricercatori universitari, dottorati abbiamo un livello di una quota di appunto dottorati con pubblicazioni molto più elevata dagli altri paesi e ovviamente siamo oggetti anche di appunto più review la settimana prossima viene la commissione europea e vuole sapere come abbiamo prodotto i numeri non solo dal punto di vista dell'auto ma dal punto di vista del processo. Allora siamo a Torino e non potevo che mettere la vostra macchina che viene prodotta più o meno qui. Allora fondamentalmente la questione è ma come mai diciamo questa persona che avete davanti a voi insiste così tanto nel dire che l'Istat produce dati di qualità, non è marketing io non sto facendo marketing del mio istituto sto solamente dicendo che quanta fatica e quanto sforzo ci mettiamo allora l'Istat è una fabbrica, cioè la cultura degli ingegneri, la cultura industriale di Torino è molto più vicina alla cultura dell'Istat di quanto l'Istat sia vicino alla cultura di Roma che è notoriamente un po' approssimativa, noi siamo tutti statistici quindi degli ingegneri mancati mettetela così e utilizziamo metodi estremamente rigorosi. Quindi l'Istat è una fabbrica, è una fabbrica che produce numeri e in questa fabbrica c'è una elevata spesa di ricerca e sviluppo cioè gran parte dell'attività sono anche non solo per produrre ma anche per migliorare la qualità utilizzare nuove fonti ed innovare. Noi quindi abbiamo delle linee di produzione, per ogni indagine c'è una linea di produzione ma crediamo come strategia che siano i registri statistici quelli che in qualche modo aumentano la qualità del dato. Che cos'è un registro statistico? E' l'elenco delle imprese residenti in Italia, l'elenco della popolazione italiana cioè noi manteniamo questi elenchi che chiamiamo registri aggiornati e completi così noi in ogni momento quando produciamo i dati sappiamo se quella famiglia è effettivamente residente in quel luogo, se in quell'impresa effettivamente attiva, se in quell'attività economica. Quindi noi investiamo tantissimo nel creare registri che sono poi quelli che integrati con altre informazioni, dati amministrativi, fiscali e con dati rilevati ci permettono di mettere insieme dati di una qualità che nessun altro riesce a fare anche perché onestamente noi siamo un ente pubblico che abbiamo l'autorità di chiedere i dati e anche di raccoglierli quindi ovviamente l'istituto ha anche le sue armi per produrre un dato di qualità quindi quando vi arriva un questionario dell'ISTAT c'è sempre l'obbligo di risposta state attenti che ci potrebbe essere la soluzione, quindi tendenzialmente ovviamente noi abbiamo un enforcement forte per fare la nostra qualità però vi assicuro che questo condiziona il tasso di risposta ma non condiziona la qualità la qualità dobbiamo comunque, ce la date voi ma la dobbiamo ottenere anche noi. Ovviamente come ho già detto appunto una grossa parte dell'attività dell'ISTAT è sempre nel definire nuove metodologie e quindi reinvestire nella qualità dei dati sia da un punto di vista metodologico ma dell'analisi c'è una parte rilevante all'istituto che sono più degli analisti che non dei produttori di dati sia in area economica che in area sociale che ci aiutano a avanzare nella frontiera della produzione del dato. Qui tendenzialmente ho affrontato il tema dei famosi big data il termine big data è abbastanza di moda è talmente di moda che è considerato superato il big data è un concetto restrittivo rispetto a quelle che vengono definite le nuove fonti perché big data veniva definito sulla base di alcune caratteristiche dimensionali di velocità di aggiornamento e di complessità siccome queste ogni due anni praticamente raddoppiano o triplicano si è abbandonato il concetto big data e si è andato sul concetto nuove fonti quindi tendenzialmente le nuove fonti sono un'opportunità per tutti per le imprese per fare più soldi per le istituzioni per essere più efficienti per i cittadini per capire meglio quello che stanno facendo i politici quindi sicuramente c'è un vantaggio noi abbiamo un approccio nell'elaborazione dei dati che al momento è ancora abbastanza tradizionale quindi utilizziamo dati tramite questionari o dati amministrativi quindi la vostra denuncia dei redditi ovviamente il garante della parafisi deve sapere che noi la prendiamo togliamo l'identificativo e ci mettiamo un altro se no mi arrestano però fondamentalmente noi siamo abituati a lavorare su dati strutturati sempre di più ci dobbiamo abituare a lavorare su dati destrutturati e complessi e questo ci porta a convergere il nostro data science che è un settore di grande interesse sia per gli ingegneri che per gli economisti quindi c'è uno sforzo comune su come sfruttare questi dati destrutturati ma altamente informativi anche utilizzando approcci innovativi noi abbiamo costituito un centro interdipartimentale che si chiama trusted smart statistics significa che smart statistics sarebbero le statistiche basate sulle nuove fonti ma devono essere trusted perché se noi non le giustifichiamo potrebbero essere un sacco di dati ma non di qualità allora questa diciamo cominciò rapidamente la seconda parte che abbiamo concordato che è quella di dice ok ma dove sono tutti questi dati di cui ci stai parlando ecco allora fondamentalmente avremmo potuto stupirvi con effetti speciali proiettando qualcosa di inter ma non ci siamo riusciti non è proprio un sito fighissimo perché onestamente è una grafica di qualche anno fa però un sito pieno di informazioni allora come organizzato questo sito ha due logiche di consultazione quella che vedete in alto c'è un banner in alto che è una logica di carattere tematico cioè i grandi temi conoscitivi sono popolazione e famiglie vogliamo sapere quanti sia quella popolazione residente in Italia in quali comuni, uomini, donne, età, popolazione e famiglie società e istituzioni, istituzioni pubbliche di quasi questo tipo istruzione e lavoro, tutti i dati sull'occupazione disoccupazione, economia, i dati sull'economia ambiente e territorio quindi come vedete è un sito gerarchico di tipo tradizionale dove si entra dentro delle scapole c'è un albero e si entra e si... possiamo tornare alla pagina iniziale se no non abbiamo una parte tematica dove gli argomenti sono divisi per macrotipologie e poi per categorie specifiche quindi sotto economia trovate i conti nazionali produzione industriale, commercio extra trovate i singoli tematismi ma c'è un altro pezzettino interessante che è quello diciamo quelle quattro figurine, banche dati che sono in alto a sinistra quindi c'è una cosa che si chiama banca dati, sono click a banca dati tramite questo link accesso a tutte le banche dati dell'istat alcune sono banche dati di carattere generale e quindi dove ci sono tutti i dati prodotti da lista su tutti i temi altre, se andiamo sotto, sono banche dati settoriali fondamentalmente troviamo delle banche dati specifiche c'è una banca dati, la prima coe web che è sul commercio estero che vi fa scaricare voi avete in mente un prodotto sono 9800 prodotti per 170 paesi volete sapere quanto abbiamo esportato di caffè verde in Guatemala io non lo so ma lì c'è quindi tendenzialmente questo è l'approccio quindi si entra anche in queste banche dati o di carattere generale o di carattere settoriale se andiamo su banche dati generali a questo punto esiste i.stat che sarebbe il secondo ecco i.stat che ha una struttura diciamo questa è una banca dati con tutte le statistiche dell'istat si scelgono i tematismi si scaricano le tabelle estremamente facile fatta sulla tecnologia dell'Ocse uno dei presidenti dell'istat è stato Enrico Giovannini recentemente ministro delle infrastrutture parla domani mi sembra e tendenzialmente lui dall'Ocse ha portato questo sistema che si chiama i.stat che consente diciamo di scaricare i dati se Andrea se puoi cliccare scegli tu a sinistra tra tutte quelle scegliene una che tanto è uguale entra una cosa qualsiasi ok qui ci sono dati e metadati qui entriamo entriamo ecco qui c'è il tema appunto per cui avevo detto che c'è un problema di appunto caricamento qui per esempio questi sono procedimenti civili lavoro prevedenza assistenza obbligatoria sono dati sui procedimenti civili si può cambiare il periodo temporale si può cambiare il drill down drill up quindi si possono si può andare al livello informativo che uno vuole poi uno sceglie e se li scarica se possiamo tornare alla pagina iniziale ovviamente ci sono i dati del PIL ho fatto una pagina proprio iniziale allora in basso a destra ecco c'è Istadator questa cosa è uscita da penso una settimana ed è praticamente non so se vi ricordate il film Alien che a un certo punto apriva la bocca è uscita quindi dentro il sito dell'Istat vecchio sta nascendo il nuovo sito quindi è uno spin off fondamentalmente e questo Istadator è un modo di presentare gli stessi dati in modo innovativo se puoi andare in basso c'è un modo per entrare ecco accedi ai dati si entra da lì e a quel punto è molto più figo grafica entusiasmante e praticamente avete informazioni dati e sintesi dei risultati questo diciamo è il nuovo approccio ai dati quindi qui si va su un approccio molto più basato sulla grafica sulla personalizzazione quindi c'è più flessibilità diciamo nella gestione del dato anche qui i dati si possono scaricare si possono elaborare questi sono l'accesso ai microdati allora i ricercatori universitari ovviamente ma anche i ricercatori privati molto spesso hanno bisogno di andare oltre l'informazione della lista l'informazione della lista è sempre aggregata devono avere i microdati il dato individuale il garante della privacy che per noi è come il lupo cattivo nella favola di capoccetto rosso noi siamo capoccetto rosso il lupo cattivo non ci consente mai di dare i dati individuali con identificativi la ragione perché ovviamente violeremo la normativa sulla parabisi quindi qui ci sono dati o resi anonimi ci sono le variabili ma non c'è identificativo o ci sono dati che hanno ancora un identificativo anche se non è quello diretto ma è un codice alterato pseudonimo quindi i dati senza identificativo si possono scaricare i ricercatori possono scaricarsi microdati tanto non sanno chi è siccome i dati economici sulla base del fattorato numero di addetti e dell'attività economica FCA si capisce in 30 secondi anche se non metti codice fiscale questi dati invece si può accedere solo tramite i laboratori dell'ISTAT i laboratori che si chiamano DELE si chiamano DELE che non è mia sorella ma analisi dati elementari quindi questi diciamo questi laboratori sono presenti in ogni in ogni capoluogo regionale quindi anche a Torino c'è un ufficio dell'ISTAT dove potete andare a fare richiesta per accedere a questi dati che però sono accessibili solo tramite il protocollo scientifico e torniamo un attimo indietro ecco c'è una cosa molto interessante allora c'è stato un momento in cui io sono stato un po' traumatizzato perché l'ISTAT se andiamo infografica che è il terzo qui sono le dashboard un po' di cose diciamo grafica dinamica io sono stato un pochino traumatizzato a un certo punto ho cominciato che non uscivano più i numeri ma uscivano queste cose grafiche con i numeri dentro ma che roba è? e dopo che ho capito allora diciamo le infografiche il trucco dell'infografica sono pochi numeri però contestualizzati in un contesto grafico che diciamo valorizza il dato quindi piuttosto che io non so quanti di voi va bene che siete ingegneri e noi che siamo statici siamo peggi di voi cioè quando c'è una tabella di numeri noi ci emozioniamo mediamente penso che non lo faccia nessuno come quando voi vedete la derivata seconda è una gioia ecco però volevo dire le persone normali sane e tendenzialmente non ne frega niente allora fondamentalmente la questione qual è? ecco questa diciamo vabbè è un po' particolare è un'infografica generica quindi hanno scelto un'immagine chiamiamola generica però in molti casi quello che è molto interessante è che le persone non hanno solo un cervello razionale ma hanno anche delle emozioni se sono ingegneri ce le hanno poche sono statistiche ancora di meno però un po' ce l'hanno la sfera emotiva e a questo punto diciamo è l'immagine che completa la percezione del numero quindi quello che noi abbiamo capito lo sta facendo prevalentemente i ministeri confindustria diciamo che l'infografica è in grado di diciamo colpire la mente anche da un punto di vista emotivo perché ovviamente la grafica quindi viene diciamo utilizzata una grafica accattivante una fotografia cioè diciamo l'immagine è associata ai numeri si sta parlando di appunto famiglie bambini praticamente ci sono dei dati che dicono che ci sono 8,5 milioni di persone sole in Italia quanti anziani e ci sono quindi si cerca tramite la grafica che può essere più o meno riuscita a fondamentalmente a catturare anche la sfera emotiva quindi i numeri rimangono un po' più impressi nella mente delle persone quindi quello che si sta vedendo è che tutti mandano infografica rotta di collo con film tutti i dati che stanno girando se non hanno l'infografica non sono considerati appetibili adesso magari questo di nuovo non è un esempio particolarmente interessante però secondo me la mente umana ad un punto di vista cognitivo l'immagine viene è più forte del numero quindi se uno riesce ad agganciare ad un'immagine dei numeri l'impatto di quello che viene trasmesso arriva prima ok ma questa era digressione ora diciamo a questo punto diciamo sarò molto più molto più veloce quali sono i prodotti del lista la lista ha un negozio di dati qual è il negozio del lista è il sito quella è una cosa bella che sono gratis ok quindi questa era diciamo i dati di lista sono gratis perché noi siamo un ente pubblico e la statistica ufficiale è considerata un bene pubblico come è o dovrebbe essere l'acqua e altri beni pubblici ok non entriamo in questo argomento e le tipologie di dati che noi produciamo sono di varia natura noi abbiamo a livello più alto come ricerca e come approfondimenti dei veri e propri report la lista tutti gli anni pubblica il rapporto annuale che è un volume di 250 pagine che viene prodotto solo in pdf così gli alberi sono contenti però nel rapporto annuale che la lista produce tutti gli anni c'è tutta la situazione del paese su tutti i fenomeni possibili tabelle grafici commentati questo accade abbiamo delle pubblicazioni flagship su varie tematiche poi abbiamo dei comunicati stampa mensili ogni mese escono i dati sulla produzione industriale commercio estero disoccupazione abbiamo queste reportistiche sintetiche poi abbiamo le nostre diciamo pubblicazioni di carattere metodologico che spiegano come facciamo a produrre i dati le banche dati che abbiamo visto quelle generalistiche e quelle tematiche i file di microdati che abbiamo già visto facciamo anche elaborazioni ad hoc a pagamento ma il prezzo quando mi dicono quanto lo facciamo pagare io dico quanto ci ha messo il programmatore mezz'ora quindi andiamo tra i 10 proprio il prezzo politico diciamo tanto perché dobbiamo farle pagare perché impieghiamo risorse e poi ci sono altri servizi interessanti come le classificazioni classificazione per attività economica classificazione dei paesi ci sono varie classificazioni esistono anche dei servizi uno interessante che si chiama rivaluta che consente alla base dell'indice dei prezzi che vedremo dopo di andare a rivalutare nel tempo grandezze monetarie voi sapete che come dice vostra nonna 100 euro oggi sono 100 euro 10 anni fa no ma non ma quant'è esattamente 100 euro 10 anni fa vostra nonna non lo sa e questa cosa ve lo dice diciamo quindi è una specie di calcolatrice che si basa sull'indice dei prezzi al consumo allora saltiamo molte slide perché abbiamo già visto tutto e a questo punto ecco qui c'era una dashboard sul lavoro a questo punto facciamo l'ultimo pezzettino del secondo modulo i moduli sono tre che è quello di ma una volta che ho scaricato questi dati dal sito del lista che ci faccio? questa è la domanda che molti si pongono quindi ho fatto il simbolo del lista ma il sito del lista uno si scarica i dati tendenzialmente i dati dal lista sono ben strutturati quindi non è che vai a fare web scraping sui siti aziendali non sai quello che è tirato giù diciamo da internet i nostri dati sono chiari sono ben strutturati a questo punto si possono fare varie cose si può fare con Excel una visualizzazione grafica quindi grafici a torta insomma tutti i nomi tecnici chiamiamoli a torta quelli con le barrette si chiamano Instagram tutte queste belle cose oppure si possono fare con Excel le versioni più avanzate di Excel si possono fare un sacco di calcoletti però questa cosa tendenzialmente va bene diciamo fino alla quinta elementare dopodiché bisogna cominciare un po' a evolvere se uno fa ingegneria dovrebbe cominciare un po' a andare oltre il foglio Excel no? è come la mamma a un certo punto ti vuoi bene ma meglio che ti trovi una fidanzata ecco la fidanzata potrebbero essere dei programmi più avanzati per l'elaborazione dei dati noi utilizziamo SAS che tra l'altro è un software americano che nasce nel settore biomedico quindi è molto spinto dalla ricerca e sviluppo americana nel settore biomedico SAS costa un po' di soldini esiste un software open source che si chiama R che forse conoscete che si può scaricare è un po' complicatino esistono altri software che si chiamano STATA che sono più cose econometriche MATLAB SPS ma ce ne sono tante ma il mio consiglio è diciamo considerare anche diciamo una possibilità di elaborare questi dati in una maniera un po' più complessa rispetto al semplice foglio Excel anche perché uno dei principali limiti del foglio Excel è che il foglio Excel è molto carente per quanto riguarda l'integrazione dei dati in teoria si possono integrare i dati ci sono delle funzionalità ma io non mi fiderei troppo di Excel quindi il mio suggerimento da statistico ufficiale è quello di anche quando si scaricano e si elaborano i dati è necessaria una progettualità cioè un minimo di progettualità ci vuole perché se no uno scarica i dati le mette sul foglio Excel insomma è una cosetta un po' troppo alla buona quello che noi facciamo ovviamente uno deve progettare l'output quindi che output vuole vuole tirare fuori deve progettare il processo quindi noi siamo sempre sicuri che nel processo non ci siano troppi passaggi manuali passaggi manuali apri lanci la macro questa roba ti scordi la macro cioè è un casino quindi progettare l'output progettare il processo quindi tutte le fasi mettere anche dei controlli di qualità nel processo poi c'è l'altro tema che è quello della continuità e dell'affidabilità se fate tutto con Excel dovete continuare a caricare scaricare mettere nella cartella poi cambiate insomma c'è una certa macchinosità e ovviamente quindi la mia esperienza anche con il teach di studio qualche anno fa era che io scaricavo tutto poi caricavo su SAS o su State e andavo avanti diciamo lo so che Excel è più divertente si fa prima però se lo fai 200 volte alla fine ti stanchi pure di quello quindi diciamo che i dati se si possono scaricare sarebbe opportuno a meno di utilizzi occasionali inserirli in una progettualità di elaborazione del dati per cui disegnate sia il processo sia utilizzate gli strumenti più idoni per farlo perché una volta dopo lanciate il programma e andate al cinema adesso c'è una ultima parte che abbiamo ecco dicevo grazie mi occupo di data quality di qualità dei dati cioè faccio consulenze e corsi in aziende private prevalentemente banche assicurazioni e cose del genere allora è una domanda teorica che le faccio mi faccio riferimento a una cosa che hai detto all'inizio cioè gli approcci prevalenti in questo campo della data quality sono approcci che vengono dal DAMA approcci internazionali quindi un istituto per la gestione un'associazione per la gestione dei dati oppure autori ritenuti autorevoli come Larry English e come altri ancora comunque sostanzialmente la qualità viene definita e declinata secondo una serie di dimensioni che sono l'accuratezza la validità la consistenza la tempestività mi colpisce il fatto e questa è la mia domanda la mia osservazione che in queste metodologie che ripeto sono metodologie italiane scusi internazionali che noi prendiamo ecco non sono nate in Italia in queste metodologie di data quality nella definizione della qualità del dato è scarsamente presente il concetto di intervallo di confidenza di errore di intervallo di confidenza cioè si privilegiano altre caratteristiche che qualificano il concetto di qualità dei dati e questo mi sorprende perché invece da un punto di vista statistico l'errore evidentemente è fondamentale ecco non lo so lei è uno statistico ufficiale quindi ha un'altra prospettiva ma lei riesce a darsi una spiegazione di questo anche se mi rendo conto che sconfini in un campo che non è il suo magari ma grazie allora innanzitutto ci sono due diciamo a livello proprio teorico ci sono due approcci sulla qualità uno è quello legato all'output che è quello che io definisco un po' più formalista cioè nel senso nel momento in cui io ho un output e certifico quell'output come un output di qualità è un approccio che appunto va a vedere la fine di un processo quindi ci sono anche libri che se vuole le posso anche mandare che parlano appunto di come è evoluta la teoria della qualità del dato statistico allora innanzitutto originariamente si parlava solamente di disegni campionari campionamento e quindi c'era questo approccio sull'errore statistico c'era nella fase iniziale poi piano piano ci siamo un po' più spostati su una logica che invece riguarda un po' aspetti formali cioè un dato senza un metadato la trasparenza quindi aspetti un po' più di formalismo non dico estetico perché non lo posso dire ma l'ultima wave invece è quella di un po' l'approccio Toyota che è fondamentalmente che un dato è di qualità se il processo è di qualità quindi l'ultimo approccio che sta venendo fuori è che diciamo l'Istat o altri soggetti non possono diciamo certificare un dato a valle se non hanno in tutta la catena del processo attuato misure di incremento della qualità cioè la qualità o la mantieni in tutto il processo ma alla fine non la recuperi quindi l'approccio quello più tradizionale distingueva tra diciamo errore campionario e errore non campionario proprio nella storia della statistica e all'inizio si pensava solamente all'errore campionario cioè l'unico problema era che io non facevo una survey censuaria se avevo un campione il campione poteva avere dei problemi di rappresentatività dopodiché ci si è spostati sulla componente dell'errore non campionario e quindi ho detto ok anche se il campione è perfetto per effetto delle tecniche per effetto degli errori sistematici sulla misurazione delle variabili io posso avere un altro errore allora secondo me l'approccio diciamo forse nel suo mondo meno ma nel mondo dell'assistica ufficiale c'è ancora un approccio che viene utilizzato prevalentemente da US Bureau of Census che è quello di diciamo decomporre l'errore della stima di una componente campionaria e una componente non campionaria e cercare con una formula matematica di tener conto di tutto quindi esistono approcci di decomposizione dell'errore in cui si tiene diciamo contezza anche degli intervalli di confidenza quindi degli errori che si vanno a creare questo approccio fallisce quando si entra in una logica di processo quello che deve essere sviluppato secondo me dei punti dei milestone di controllo in un processo dove uno per ogni punto di quel processo deve mettere dei punti di controllo di qualità e deve andare poi a affrontarli anche in termini inferenziali ecco diciamo che nell'assistica ufficiale l'approccio è quello delle unità influenti cioè io avendo risorse limitate l'approccio commerciale è quello della marginalità finché mi comprano la banca dati perché devo controllare la qualità e quindi ci sono dati incompleti variabili mancanti i matching non funzionano ma tanto visto che funziona al 90% e chi se ne frega del 10% quindi questo è l'approccio che io vedo nelle banche dati commerciali nei nostri sistemi invece c'è un approccio invece più di di integrità del dato non si va al passo dopo se non si sono risolti tutti i problemi di qualità del passo del passo precedente ovviamente siccome le risorse finanziarie umane sono limitate anche all'istat come sa bene il professore che è consigliere dell'istat ecco deve essere perfezionato di più il fatto di fare controlli mirati uno dovrebbe mirare il controllo di qualità sulle unità che hanno un maggior impatto sulla stima finale quindi diciamo un approccio di priorità per connettere la priorità del controllo cioè costo del controllo priorità del controllo impatto del controllo quindi una logica proprio puramente a questo punto uno agendo sulle priorità tendenzialmente uno si può permettere 100 controlli non ha risorse ne fa 10 quei 10 devono impattare sul 90% dell'errore che io posso incurre quindi si va in un concetto di prioritarizzazione però diciamo quello che le diceva poi no avere un intervallo di confidenza o non avere un intervallo di confidenza quello dipende se uno adotta un approccio di tipo probabilistico o non probabilistico in quello che va a misurare quindi si può sempre introdurre cioè uno può anche insomma uno può fare controlli in dual può fare controlli a campione se fai un controllo a campione puoi comunque sempre definire intervalli di confidenza di quello che si è andato a controllare ma io controllo la campione li farei sulle unità non influenti li concentrerei su quelle influenze per esempio per esempio perché quello ti va a vedere appunto se io altero alcuni parametri di quanto varia confermo poi penso che lui ne sappia più di me vorrei aggiungere una cosa se sollecitata la domanda vorrei aggiungere una cosa due osservazioni veloci c'è una questione psicologica per cui l'uomo ha bisogno l'uomo e la donna hanno bisogno di certezze quindi quando si va a parlare con lo scienziato uno vuole avere delle risposte le risposte se lo scienziato ti risponde con dell'incertezza questo non piace tanto quindi già questa dimensione psicologica dell'incertezza è importante va fatta capire perché comunque noi lavoriamo tutta la mia professione tutta la sua professione è dedicata a far capire che certe conclusioni non sono certe ma sono soggette a regole di errore a seconda delle impostazioni di come è stato prodotto il dato del processo che l'ha generato la seconda dimensione molto importante è una dimensione legale nel linguaggio giuridico italiano purtroppo la dimensione della probabilità dell'incertezza è quasi assente quasi del tutto e questo cozza contro tutti i principi della scienza su cui ripeto io e Stefano e moltissime altre persone costruiscono la propria carriera se tu vai con mi era capitato recentemente grossissima azienda cifre importanti questioni legali guardi di finanza coinvolta c'è una disputa su una qualche quantità gli avvocati cercano in tutti i modi di evitare di parlare di intervalli di confidenza di livelli di confidenza di livelli di probabilità è assolutamente controproducente da un punto di vista della strategia legale giuridica io non posso farci niente il sistema ancora noi crediamo ad avere un sistema giuridico molto avanzato perché affondiamo le radici in duemila anni di storia di diritto umano purtroppo non ce l'abbiamo per certi versi il sistema anglosassimo essendo un po' più empirico un po' più allevato alla considerazione dei dati e dell'esperienza empirico che parola esatta più prima utilitarista è più affinato a questo punto di vista e questo è un problema è un grosso problema io una volta andai a una riunione di commercialisti che volevano interessarsi anche in ambito di qualità del dato di che cosa si potesse fare per certe cose che non mi sto a dire non posso dire appena pronunciai la parola rischio i livelli di rischio accettabili mi invitarono più non c'è storia non c'è storia quando uno ha a che fare con i tribunali a meno non è del tutto vero ovviamente sto esagerando perché in certi casi per esempio si sa che sulla ricostruzione genetica di un profilo incriminale per esempio è chiaro che la probabilità lì è molto importante devono entrare considerazioni di rapporti diverse semiglianze eccetera però diciamo che ancora c'è un pezzo uno zoccolo duro del sistema giuridico italiano che ideologicamente è contrario all'incertezza mi reggancio a questa osservazione che diciamo diciamo la vivo quotidianamente la certezza del diritto e l'incertezza della statistica sono incompatibili noi avevamo diciamo noi quando facciamo indagini dobbiamo appunto raccogliere i dati con l'obbligo di risposta e eventualmente sulle unità più influenti e possiamo anche applicare la sanzione perché il danno che la grande impresa mi fanno rispondendomi è un danno che mi incide sulle stime in modo rilevante abbiamo detto ma applichiamo come fanno gli olandesi il concetto di probabilità anche sulla sanzionabilità cioè io mi riservo sulle piccole e medie imprese di estrarne il 5% così ho un deterrente basso l'effetto lotteria al contrario e il nostro ufficio giuridico ovviamente se si stavano sentendo male gli dobbiamo dare trasfusioni di sangue poi dopo hanno capito che si poteva fare ma da soli cioè sono tornati da noi probabilmente non so che gli è successo a un certo punto però ancora non l'abbiamo fatta ecco c'è una cosa interessante che sta accadendo nell'utilizzo delle nuove fonti nel settore giuridico io conosco anche qualche avvocato giovane che mi dice che praticamente appunto le sentenze vengono scritte a mano e quindi l'avvocato deve andare col suo studio a prendere tutte le sentenze analiche questo è molto di più nel diritto anglosasone nel diritto anglosasone cioè diciamo no ci si rifà ai casi precedenti no e a livello giuridico invece in Italia c'è molta burocrazia stanno variando fuori dei motori di ricerca già ci sono fatti da alcune società informatiche ma anche da alcuni studi legali in cui praticamente vengono caricate tutte le sentenze e il parere giuridico in qualche modo viene precaricato cioè perché fondamentalmente quello che l'avvocato signor fa dice l'avvocato junior ma leggi un po' di cose fa una quella che gli accademici chiamano lì c'è ratio review vai a leggere tutto quello che è successo e poi prova a farmi una sentenza ecco la probabilità che l'avvocato giovane faccia una cosa diciamo non completa non coerente è relativamente alta e quindi nel settore legale la legge del contrapasso che stanno tutti cominciando ad utilizzare diciamo l'intelligenza artificiale sembra che nei i giudici americani vogliono avere strumenti di intelligenza artificiale per avere una prevalutazione ovviamente questo da un punto di vista etico significa che se uno di noi fa qualcosa deve insomma si affida a delle macchine per capire quello che viene fuori quindi ovviamente l'ultimo passaggio deve essere sempre umano ora diciamo qui siamo entrati nell'ultima parte dove abbiamo concordato no? di illustrare quelli che sono i numeri che voi vedete più spesso in televisione e cercare di farvi insomma ripercorrere un po' le caratteristiche di questi indicatori per illustrarvi in modo leggermente più approfondito farvi capire un po' i limiti quindi questa è una parte che possiamo fare o non fare ecco mettiamola così comincio a farla poi magari mi dite voi se è interessante possiamo far male questo è appunto il prodotto interno lordo e praticamente che cos'è il prodotto interno lordo è fondamentalmente il principale indicatore macroeconomico per misurare la ricchezza prodotta la ricchezza prodotta viene anche definita valore aggiunto perché si usa il valore aggiunto e non la fattura perché la ricchezza di questo paese non è la somma di quanto fatturano tutti e perché ovviamente ci sono transazioni di acquisto e vendita per cui il fatturato dell'impresa finale incorpora il fatturato di tutte le imprese formitrici e quindi l'analisi viene fatta sommando i valori aggiunti che è esattamente quando quanto quell'impresa in quel punto della filiera ha aggiunto di valore con input interni rispetto agli input esterni che sono stati dati dal valore aggiunto dell'azienda che le ha venduti il PIL viene utilizzato anche per misurare la produttività quindi in questo paese il PIL non è cresciuto negli ultimi 15 anni ma sono 30 anni che non cresce la produttività quindi noi avevamo già un segnale che il PIL non sarebbe cresciuto perché è la produttività che non stava crescendo e quindi se c'è una crescita del PIL senza crescita della produttività tu cresci perché aumenti il capitale aumenti gli occupati ma a un certo punto non cresci più quindi è un altro motivo per cui appunto il PIL ha la produttività allora se voi siete ingegneri diciamo diciamo di notte magari sognate i macchinari allora l'economista sogna la funzione di produzione la funzione di produzione la più famosa si chiama è fondamentalmente una relazione matematica lineare o log lineare in cui all'output associo gli input quindi l'output il valore aggiunto è funzione del capitale degli occupati e della tecnologia se io vado a decomporre la variazione del valore aggiunto in una variazione dell'input lavoro più una variazione dell'input capitale più una variazione della tecnologia di questi quattro variabili ne conosco tre conosco quanto cresce il PIL conosco quanto cresce il lavoro conosco quanto cresce lo stock di capitale faccio la differenza e so quanto cresce la tecnologia questo paese ha avuto un PIL sempre decrescente finché non è diventato quasi asfittico ma ancora prima di crescere poco cresceva quindi la variazione del PIL era trainata esclusivamente la variazione o dello stock di capitale o variazione degli addetti non parlo della tecnologia embedded nel capitale parlo proprio dello stock di capitale quindi fino a che si facevano nuovi capannoni si assumevano persone il paese cresceva ma questa è una crescita espansiva non è una crescita intensiva negli altri paesi si cresce per una crescita di tipo intensivo perché si introduce tecnologia si licenzia anche tanto diciamo però aumentano anche i salari quindi i modelli dei paesi nordici americani ed anglosassoni sono un mercato di lavoro molto più flessibile in cui si entra si esce però produttività che crescono molto di più PIL che cresce di più e quindi anche remunerazioni che crescono di più perché se non cresce la produttività è improbabile che cresca il vostro salario si è il detto della tecnologia che in questo caso quindi e poi così ingegna gli italiani ha iniziato la distribuzione del PIL a che livello? a livello che noi abbiamo un paese abbiamo un paese in Italia dove hanno il reddito maggiore di tutti i paesi di tutti alle altre regioni italiane semplicemente perché abbiamo il cantante lirico Bocelli che guadagna tanto da far credere che in quel paese hanno il reddito più alto d'Italia. Perciò bisogna andare pure alla distribuzione del PIL. Ok la distribuzione del PIL in questo caso è più la distribuzione del reddito che dipende dal PIL quindi se deriva da profitti o da aspetti di rendita. Comunque diciamo quella che ho introdotto prima si chiama total factor productivity, quindi è praticamente andare a decomporre la crescita del PIL nelle sue componenti considerando capitale lavoro ma anche tecnologia la misura più rosa per misurare la produttività è il valore aggiunto per addetto che si chiama produttività apparente del lavoro. Sono tutti indicatori che fanno capire quanto un paese ha un potenziale di crescita. se hai un'elevata produttività connessa con la tecnologia tendenzialmente il tuo PIL cresce a prescindere che aumentino addetti uomini o tu fai nuovi capannoni. Comunque diciamo a questo punto, vedi questa è la funzione di produzione, allora diciamo questo è il PIL e un altro pezzo di informazione rilevante del PIL è che noi siamo soggetti per il nostro debito pubblico che forse voi non eravate nati ma io sì, fondamentalmente si è creato in alcuni decenni particolari e quindi per avere un'affidabilità finanziaria, il famoso spread, bisogna mantenere alcuni parametri deficit, lo stock di debito su PIL un po' sotto controllo. Noi ce li abbiamo particolarmente alti quindi in un paese in cui questi parametri sono bassi si può avere una certa variabilità connessa col ciclo economico, quello che succede in questo paese è che appena i rapporti deficit PIL o stock di debito su PIL si muovono, praticamente si cominciano a accendere varie luci diciamo sull'affidabilità di questo paese e cose di questo tipo. Se vi ricordate l'uscita dall'euro di qualche anno fa. Comunque diciamo ecco questa è, vi ho dato un po' di numeri vedete a parte il grafico che è intuitivo dove c'è la caduta dovuta con la pandemia perché le attività sono state interrotte, fondamentalmente quello che è successo è che il PIL diciamo viene misurato, è un indicatore complesso ma anche abbastanza rapido, c'è un obbligo per cui noi dobbiamo pubblicare il PIL a livello trimestrale, prima un dato provvisorio, poi un dato consolidato, poi il dato annuale e questo insomma ci vuole un certo coraggio a farlo perché quando esce il dato trimestrale provvisorio l'Ista non ha in casa tutti i dati che in teoria servirebbero per farlo ma si deve affidare a delle stime. Quindi quello che è successo è che da una settimana noi siamo usciti con una crescita positiva del PIL di 0.5 nel terzo trimestre, quindi terzo trimestre sapete di cosa stiamo parlando all'estate e settembre, tutti si aspettavano quello che viene chiamato il consensus, il consensus è che tanto diventa negativo, tanto diventa negativo, no 0.5 quindi noi abbiamo fatto le nostre stime, siamo usciti con un dato trimestrale provvisorio positivo di crescita congiunturale, settimo trimestre di crescita consecutiva l'Istat come vedete tira dritto, tutti dicono c'è la recessione, siamo in recessione, noi continuiamo a pubblicare i dati per quello che riteniamo giusto fare, ovviamente quindi noi stiamo dando un segnale di una crescita che rimane positiva ma che decelera, certo una crescita di 0.5 con una base dati parziale potrebbe essere che quando questo dato verrà rivisto magari non è 0.5 potrebbe essere meno 0.1 e tutti diranno l'Istat ha sbagliato, no, noi in quel momento uno siamo indipendenti perché diciamo quindi l'abbiamo deciso noi ma perché lo 0.5 è il risultato migliore con le informazioni presenti in quel momento, ecco questo è un altro aspetto culturale, no, io ho un mio amico, mio carissimo amico che lavora al Bureau of Economic Analysis a Washington che diciamo il sistema statistico americano è tra i più incasinati dell'universo però loro hanno varie agenzie, non c'hanno l'Istat, c'hanno l'Istat, c'hanno l'Istat, sono molto frammentati, hanno entità e loro hanno entità governative molto legate ai ministeri che producono i numeri, non è bellissimo no perché se io produco i numeri dell'agricoltura, lavoro al ministero dell'agricoltura, però diciamo stanno ancora con un approccio tradizionale e praticamente la stima preliminare del PIL trimestrale ai Stati Uniti può essere più 5, più 5, non più 0.5 e 20 giorni dopo meno 2%, nessuno dice niente, qui mandano via il presidente, il consigliere, a me mi prendono la calcina al culo e il governo cade, questa è la cultura di questo paese, cioè c'è il terrore che i numeri cambiano, no? Qui questo è un paese che pensa che la statistica sia una specie di, come ti posso dire, scienza esatta in cui quando è uscito un numero, oramai non ti permettere a cambiarlo, ecco questo è un altro tema, no? Grosso, cioè negli Stati Uniti sono contenti che hanno rivisto il PIL perché in quel momento all'informazione europea le parano altre, che fai? Non le cambi? Sei più credibile se le cambi, questo è un altro tema rilevante, quanto questo paese accetta un istituto come l'Istat indipendente? Molto, io sono sempre sorpreso di questa cosa e quanto accetta che noi cambiamo i numeri? Meno, ma non ci interessa, continuiamo a pubblicarli quindi sto dicendo, l'Istituto Nazionale di Statistica ritiene, anzi stima che noi siamo in crescita da sette trimestri e siamo in decelerazione questo è quello che c'è sul sito dell'Istat, i media forse dicono altre cose ma noi stiamo tenendo questa linea perché i dati che abbiamo ci portano a sostenere questa linea poi diciamo un'altra cosa interessante, questa è molto carina noi diciamo che la crescita acquisita nel 2022 è del 3,9% cosa stiamo dicendo? quindi noi abbiamo detto che sono sette trimestri che stiamo crescendo quando tutti vanno a dire in giro che non stiamo crescendo vabbè, c'erano anni fa che non stavamo crescendo, Berlusconi diceva che andavano tutti dentro i ristoranti più o meno è la stessa cosa girata dall'altra parte però la cosa interessante è che noi abbiamo detto che la crescita acquisita del 2022 è 3,9% 3,9% è crescita reale, non crescita nominale quindi tolta l'inflazione che sta galoppando, è un'ottima crescita il governo dice, ah, sette trimestri, 0,5%, crescita acquisita, 3,9%, manovra finanziaria espansiva paghiamo le bollette ai cittadini questo è quello che pensa il governo loro pensano che questo, il quadro attualmente è positivo una crescita acquisita del 3,9% che cosa significa? che se nell'ultimo trimestre ci sarà una variazione 0 chiudiamo l'anno a 3,9% se ci sarà una variazione superiore di 0 e anche lì comincio un po' a essere scaramantico parecchio sarà più di 3,9% ma se ci sarà una variazione negativa non sarà 3,9% ma sarà 3,2% sarà 2,5% però quando in Italia dice acquisita e ce l'ha in tasca, che faccio? te la vengo a rubare? quindi queste sono tutte le terminologie un po' della statistica ufficiale che quando si parla di crescita acquisita noi ci guardiamo tra noi ma questo dato secondo me non lo capiscono ecco io sono convinto che non lo capiscono perché 3,9% significa stiamo ipotizzando una crescita flat 0 nell'ultimo trimestre se ci va di lusso magari è 0 ma valutiamo se sarà così quindi questa è un po' la percezione del dato del PIR ecco c'è un altro dato che potrebbe interessare che è quello dell'evoluzione dei prezzi allora questo è un... io le chiamo statistiche generazionali cioè nel senso che fino a un anno fa l'inflazione era irrilevante cioè noi siamo venuti fuori da 6-7 anni in cui l'inflazione era praticamente bassissima i tassi di interesse erano bassissime il nostro collega Federico Polodoro che si ostinava a produrre il dato dell'inflazione con una rilevazione territoriale con tutti i comuni con 1700 prodotti utilizzando gli scanner data che stai facendo? lui stava, e ringraziamolo producendo un dato di qualità quando della qualità di quel dato non gli fregava niente a nessuno adesso che c'è stata la botta dell'inflazione che l'abbiamo sentita tutti diciamo adesso sì che servono quei dati l'assistica ufficiale serve anche quando ve la dimenticate usiamola così perché aver mantenuto in piedi un sistema di rilevazione così pignolo così accurato così monitorato cioè è veramente la nostra metodologia prevede un paniere di 1700 prodotti insomma veramente ogni anno il paniere cambia perché le abitudini di consumo potrebbero cambiare quest'anno ci avevamo messo la frigitrice ad aria perché si vede che nelle scelte dei consumatori da altre dire mia moglie la compra non per il paniere però insomma diciamo noi dobbiamo seguire abbiamo un sistema di rilevazione capillare sui comuni ci mettiamo gli scanner data abbiamo i dati della distribuzione siamo i dati non c'è tutto per misurare un'inflazione che stava sotto il 2% per 8 anni una società privata avrebbe detto che stiamo facendo e smantellavano la rilevazione l'Istat ha continuato a farla allora la cosa interessante dell'indice dei prezzi è che fondamentalmente si basa diciamo l'indice è 1 tendenzialmente anzi esistono diciamo l'indice generale è 1 si basa su un sistema molto ramificato di indici elementari basati sui singoli prodotti questi prodotti vengono ponderati sulla base della struttura dei consumi delle famiglie quindi alcuni prodotti un anno possono pesare di più altri di meno addirittura alcuni uscire ed altri entrare ma l'Istat non produce solo un indice dei prezzi ne produce almeno 4 questo perché sono 4 allora 3 perché sono previsti dai regolamenti comunitari e 1 perché ci piace a noi produrlo perché fondamentalmente utilizzando gli stessi dati lo stesso paniere lo stesso criterio di aggregazione noi abbiamo sviluppato anche perché ce lo credono i regolamenti unitari e comunitari 4 tipi di indici diversi perché perché è la tipologia di consumatore che cambia quindi noi abbiamo gli stessi dati lo stesso algoritmo che fondamentalmente è una media ponderata allora se lo se calcoliamo tutto sulla base della struttura dei consumi dell'intera collettività i ricchi i poveri i bocelli tutti quanti utilizziamo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività togliamo i prezzi del tabacco perché è un monopolio quindi il prezzo non è un prezzo di diciamo mercato e questo viaggia al 3,5 rispetto al mese precedente all'11,9 sullo stesso mese dell'anno precedente quindi questo ha una sua dinamica però io mi posso calcolare anche oltre il NIC mi posso calcolare il FOI l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati che cosa mangia l'operaio e l'impiegato quali sono le sue abitudini al consumo allora a quel punto il paniere e i pesi vengono cambiati per far sì che rispecchi il comportamento al consumo di queste famiglie che i famosi blue collar una middle class un po' insomma dopodiché abbiamo un altro indice che si chiama IPCA che è l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per il paese dell'Unione Europea che serve solo a compararci con gli altri paesi perché l'indice NIC non è esattamente uguale poi abbiamo introdotto un ulteriore indice che è praticamente l'indice dei prezzi per frequenza di acquisto e questa è la cosa secondo me più figa che abbiamo fatto non l'ho fatta io in questo settore che è basata sul concetto di percezione allora noi misuriamo l'inflazione rispetto al il comportamento di un consumatore che può essere o generico o famiglie di imprese ed operai però lo andiamo a misurare rispetto agli acquisti che quel consumatore fa o di beni immediati il pane la frutta o di beni di consumo durevoli e semi durevoli allora uno dei fattori che frenano la crescita di pre frenavano perché adesso non la ferma nessuno però all'epoca frenavano è l'acquisto di beni durevoli ora voi che comprate la banana tutti i giorni o altre cose vi ricordate il prezzo? sì quando avete comprato la lavatrice vi ricordate il prezzo? no vi si rompe andate a casa dovete comprare la nuova lavatrice quanto costa? meno di dieci anni fa quindi esistono alcuni prodotti specialmente quelli dell'elettronica dell'elettronomesso il cui prezzo in dieci anni o non è variato o non è salito quello nel vostro paniere pesa perché è una parte di quello che voi fate poi voi lo comprate ogni dieci anni però noi ne teniamo conto che le famiglie a rotazione devono sempre comprare la lavatrice allora quello che viene fatto che viene l'indice dei prezzi generale viene calcolato sulla base della frequenza di acquisto quant'è questo indice per i beni che compro tutti i giorni quant'è questo indice per i beni che compro almeno una volta al mese quant'è questo indice per i beni che io compro anche in un arco intranuale questa è la cosa sensata da fare in statistica che si avvicina di più alla percezione perché voi avete la percezione dell'inflazione anche io ma non avete la misura dell'inflazione perché per voi i prezzi aumentano se voi di giorno in giorno vedete che i prezzi aumentano avete la percezione che l'inflazione aumenta non sapete di quanto l'insta vi diceva negli ultimi anni che cresceva almeno del 2% dice ma cavolo ma io se vado lì quello che compro tutte le settimane cresce più del 2% che stanno facendo quelli di Roma ecco stiamo facendo questo quindi tenete conto che tutti questi indicatori escono tutti i mesi cioè tutti i mesi c'è un report di 15 pagine che va nel dettaglio su tutta sta roba è chiaro che è stato documentativo per 5 anni non lo guardava nessuno adesso lo vanno a leggere tutti quindi noi abbiamo una spinta enorme che parte dai prodotti energetici che si trasmette ai prodotti elementari che si trasmette su tutta la catena distributiva e quindi da un'inflazione focalizzata sull'energia stiamo andando a un'inflazione diffusa a tutti i beni dato interessante appunto che corrono l'incremento dei prezzi di energia è stato del 73% ottobre 73% dei beni elementari è stato del 13% l'inflazione di fondo che invece è il contrario di quella di elevata frequenza quella di medio e lungo periodo tutto sommato del 5,3 il che significa che usciti da questa bolla probabilmente si tornerà un 5,3 quindi queste sono tutte informazioni che tutti i mesi escono che io so chi le scrive non so chi le legge però ultimamente secondo me è un'informazione molto importante adesso avremmo 3,4 slide sugli principali indicatori sulle imprese e poi avremo gli indicatori del BES in un quarto d'ora facciamo il BES secondo me è più interessante anche per le giorni ok allora io sono un economista industriale a fatica vado con grande fatica una cosa ricerca e sviluppo spesa ricerca e sviluppo in questo paese guardate il grafico non leggo la tabella chi finanzia la spesa di ricerca e sviluppo in questo paese se vedete il totale il 50% di ricerca e sviluppo è finanziata dalle imprese il resto dal pubblico ma le imprese che fanno si autofinanziano cioè le imprese non mettono una lira nella ricerca pubblica in quella universitaria quindi come va la spesa ricerca e sviluppo è più importante la cosa questa cosa era interessante perché come si innova si innova sempre di più tramite network quindi l'innovazione non è più un fattore interno ma un fattore collaborativo e queste sono le famose multinazionali quelle brutte e cattive io ci ho fatto un PhD pensate voi quanto so cattivo e praticamente cosa fanno le nostre multinazionali all'estero voi dite ah le multinazionali all'estero vanno a produrre all'estero e poi reimportano in Italia questo accade molto poco le multinazionali producono all'estero e molto spesso vendono in quel paese o in altri paesi quindi l'effetto spiazzamento non c'è e andiamo agli obiettivi SDGs allora il PIL ci dice tutto? no ci dice poco allora il problema del PIL è che è molto carino però si basa è un indicatore unidimensionale ci dice solamente la ricchezza di un paese in qualche modo il reddito la distribuzione del reddito in qualche modo ce la dice ma non ci dice se questo paese è un paese che sta crescendo in modo equilibrato da altri punti di vista qui ci sarebbe da parlare 20 minuti quindi c'è tutta una storia che nasce dalle teorie sullo sviluppo sostenibile vabbè tutta 20-30 anni di dibattito chiacchiere poi le chiacchiere hanno fatto hanno detto ok le Nazioni Unite hanno detto adesso sostituiamo le chiacchiere i numeri perché finché parliamo di quanto è bello l'ambiente così ma finché non lo misuri quindi stai praticamente facendo retorica allora le Nazioni Unite hanno definito il Sustainable Development Goal sono 17 obiettivi che le Nazioni Unite hanno dato ai paesi dicendo li dovete raggiungere entro il 2030 uno degli obiettivi principali è quello di arrivare all'impatto zero ambientale ma ce ne sono altri allora per monitorare rendere credibili questi obiettivi sono stati sviluppati degli indicatori statistici e l'ISTAT nella persona di alcuni insomma sia di Enrico Giovannini che della dottoressa Linda Laura Sabatini hanno molto investito nel far cambiare l'idea alle Nazioni Unite che il PIL non bastava quindi il discorso cosa fa l'ISTAT l'ISTAT va alle Nazioni Unite a New York e dice ok il PIL non basta io devo avere altre misure quindi noi abbiamo cominciato a produrre questi indicatori dal 2018 l'ISTAT pubblica il rapporto SDGs informazioni statistiche per l'agenda 2030 in Italia quindi se andate sul sito dell'ISTAT vi scaricate questo pdf senza fare male a nessun albero e quindi avete tutte le tabelle tutte le diciamo analisi la cosa interessante è che l'ISTAT ci ha creduto talmente tanto che noi abbiamo anche delle banche dati quindi il sito dell'ISTAT è uno dei pochi siti al mondo in cui potete andare a scaricare tutti questi indicatori connessi perché gli obiettivi sono 17 ma gli indicatori sono 300 cioè a ogni obiettivo sono caricati più indicatori il grande sforzo che abbiamo fatto nell'ultimo periodo è quello di passare da indicatori nazionali a indicatori regionali e adesso a indicatori locali questo significa che i policy maker non solo a livello governativo a livello regionale ma anche cittadino possono il sindaco di Torino può legare la propria agenda politica agli SDGs che sono appunto quelli di sostenibilità ambientale difesa della povertà e cose di questo tipo riduzione della povertà qui ho preso il goal 11 che sono città e mobilità sostenibili questi sono tutti gli indicatori sono molto piccoli non sono riuscito a renderli più grandi quindi sono tutti vari indicatori di impatto ambientale di riciclo rifiuti dove il sistema di monitoraggio delle SDGs ti va a vedere semplicemente se tu sei migliorato nel tempo e quindi luce verde se sei migliorato luce gialla stai a dormire luce rossa sei tornato indietro l'ultima colonna dà invece la convergenza tra regioni cioè l'Italia è migliorata ma con divari territoriali più accentuati o magari il contrario ovviamente l'ottimale sarebbe luce verde e convergenza perché se luce verde è in alcune regioni e non è in altre si creano anche di vari territoriali allora veniamo alle conclusioni allora conclusioni leggermente filosofiche diciamo un pochino e sono diciamo io questi sono anche molto personali allora praticamente io penso che diciamo noi abbiamo tutti una sfera di libertà individuale alla quale corrisponde anche una sfera di responsabilità poi ognuno crede in quello in cui vuole credere però comunque c'è la libertà ma c'è la responsabilità e quindi la scelta del dato fa parte della nostra libertà e della nostra responsabilità quindi se non andate sul sito dell'Istat non andate all'inferno però probabilmente fate delle scelte diciamo non così responsabili e ovviamente il fatto che vedete quel signore noi siamo circondati dai numeri da un lato è uno spazio di libertà effettivamente questi numeri prima non ci stavano e quindi grazie a Dio che ci sono però determina molta confusione cioè noi abbiamo troppi numeri che non sono sempre chiari non sappiamo quanto sono credibili non sappiamo la qualità non sappiamo l'intervallo di confidenza non sappiamo come sono degenerati quindi questi numeri un pochino ci frastornano e poi abbiamo una cosa che non dovete mai sottovalutare che è l'opinione pubblica c'è un libro bellissimo dagli anni 20 si chiama The Public Opinion scritto da un americano adesso il nome non mi viene in mente ma lui dagli anni no scusate è scritto nel 43 lui ha capito perfettamente come dalla propaganda militare americana si passava a una propaganda dei media per fare consumare di più le persone quindi attenzione che io non sto parlando della vostra libertà individuare ma di come i media vi possono comunque condizionare quindi se voi vi affidiate a quello che dice il media problemi vostri ma c'è qualcuno che sta scegliendo per voi quindi in questa prospettiva non è solo avere troppi numeri ma avere anche dei media che potrebbero volendo condizionarvi non vi dico che lo fanno ma è probabile che lo facciano perché ve li interpretano non vi dicono quali sono ve li interpretano siamo tutti prima di vedere la slide sul PIL italiano eravamo tutti convinti di essere in recessione e non lo siamo sulla base dei dati dell'istituto allora c'è un tema di libertà e di responsabilità l'ISTAT ha smesso di essere il monopolista dei dati quindi nessuno dice di guardate solo i dati dell'ISTAT non guardate altri dati però io vi dico che per come sono costruiti per l'indipendenza dell'istituto e per la cura che ci mettiamo nonostante i problemi interi all'istituto però è comunque una comunità di scienziati e di professionisti che quando devono produrre il dato sono seri poi magari su altre cose sono un po' più che ribaldini però è un istituto serissimo quindi la qualità di questi dati è un patrimonio è la famosa mela d'oro insieme a tante mele verdi grazie ancora interventi del pubblico prego prego un attimo solo prego a parte la l'aspetto positivo del della statistica istituto in medicina c'è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo e purtroppo mi sembra che ci si occupa oggi soprattutto del colesterolo cattivo per esempio lei parlava della frequenza di acquisto io mi preoccupo soprattutto della della frequenza di spesa per esempio la matematica non è un'opinione quindi avendo l'inflazione è chiaro che le merci tutte e tante altre cose aumentano e non c'è però poi subentra il famoso colesterolo cattivo cioè delle spese che non avrebbero assolutamente motivo di aumentare e invece o restano invariabili e quindi restando invariabili rispetto a un aumento del costo della vita non avrebbero motivo di restare invariabili per esempio stamattina proprio stamattina per televisione dicevano ad esempio a livello istat che gli affitti praticamente costano in famiglia in una famiglia rappresentano il 50% del reddito dell'entrata Keynes lei forse prima parlava riferito a quel libro forse si riferiva a John Maynard John Kenneth Maynard comunque Keynes giustamente a parte l'economia del New Deal che praticamente è stato positivo per gli anni 68 70 io mi permetto di parlare perché sono un bancario faccio mi sono sempre interessato di economia Keynes faceva presente soprattutto che oltre al tipo di economia del New Deal era importantissimo il controllo dei prezzi controllo dei prezzi che significa che se chiaramente con l'inflazione la merce aumenta significa che stando nell'ambito del sistema privatistico del sistema capitalistico l'imprenditore non deve più preoccuparsi che deve guadagnare sempre 10 vuol dire che aumentando le merci il costo delle merci dei macchinari si dovrà accontentare di guadagnare 8 7 e invece no torniamo al discorso del PIL per cui in cui la città rapprese quel paese non mi ricordo i nomi per dell'Emilia Romagna è il paese più ricco d'Italia tenendo presente che molti cittadini di quel paese sono poveri e quindi non usufruiscono di questo reddito maggiore quindi perciò diceva secondo me è fondamentato l'Istat oltre a stare nella linea del colesteroto cattivo dovrebbe soprattutto entrare nella lista del colesteroto buono la mia speranza sarebbe quella che si parlava all'epoca Kant parlava addirittura della moneta unica mondiale e quindi io mi augurerei che ci fosse un Istat mondiale che potrebbe suggerire potrebbe indirizzare cose buone per l'umanità per la società umana purtroppo per il momento si definirebbe utopistico no no noi non speriamo a diventare insomma il bene dell'umanità magari lo vogliamo solo misurare questa è una grande è una grande presunzione no anche il fatto ecco no no volevo dire però il fatto no che no certo no voglio dire però il fatto che noi abbiamo abbandonato come sistema statistico mondiale perché poi sono le Nazioni Unite che sono l'Istat di New York che ha lanciato questo progetto BES effettivamente siamo andati a concepire lo sviluppo economico non come unidimensionale ma come pluridimensionale quindi ci siamo avvicinati più insomma a questo concetto di appunto di bene comune ma noi per essere indipendenti non possiamo essere un'autorità regolatoria cioè nel momento in cui l'Istat dovesse trovare un dato che non va o che non funziona io non posso a quell'impresa dire adesso ti mando la guardia di finanza io ho avuto esperienze ma riunioni diciamo tipo il processo di Kafka in cui mi incontravo con lo statistico dell'agenzia dogane che diceva io sono uno statistico da l'agenzia dogane da l'Istat i dati delle dogane sul commercio con l'estero noi li rivediamo mediamente erano delle signore di 60 anni o 70 che le rivedevano quindi vabbè ma non glieli potevo ridare perché nel ridarli loro avrebbero potuto segnalare quell'errore statistico come una frode e quindi Rignoni io ero un ragazzetto che gli dicevo a questo qua dell'agenzia delle dogane che era lui che mi aveva dato i dati io dovevo solo ridare con questi controllini fatti e lui diceva io sono uno statistico sono l'agenzia di statistica la mia divisione si chiama statistica io dicevo tu sei un ufficiale giudiziario o no così siamo stati due ore e lui mi ha detto non posso non esserlo e io quindi i dati non glielo ho dato quindi noi abbiamo delle regole durissime per cui l'unico motivo per cui una volta stato veramente contento ho dato un micro dato è stata un'ingiunzione di un tribunale che volevano sapere allora c'era voi sapete l'amianto gli effetti dell'amianto porto diciamo Marghera c'era una causa bestiale di persone che sono morte perché stoccavano amianto e una persona mi ha scritto una lettra guardi mio padre sta morendo perché accade anche questo all'istat e arrivano queste lettere e mi ha detto mi dia i dati sull'amianto depositato in quella dogana e io ho fatto le mie verifiche mi faccia scrivere dal giudice per fortuna è cambiata la legge adesso basta l'avvocato quindi noi possiamo fare un disclosure dei nostri dati solo per questioni giudiziarie perché hanno capito che a fronte di un danno di una causa maggiore il disclosure è comunque un dato ma noi non diamo i dati a nessuno e fa parte della nostra reputazione quindi io avevo un mio amico che lavorava in confindustria che tutte le sere prima che usciva la produzione industriale mi chiamava come stai stai bene benissimo ok è un duro lavoro qualcuno lo deve fare io parlo molto qui ma in realtà non parlo mai quindi ultima domanda qualcuno può fare l'ultima domanda allora molte delle scelte in ambito politico economico ma anche da enti privati vengono prese su dati catturati a posteriori cioè io aspetto che una cosa avvenga e poi la valuto mentre molte altre se non la maggior parte vengono prese su dati predittivi cioè io stabilisco la mia strategia aziendale su quello che sarà il futuro del mio settore economico ad esempio ora com'è che l'istat ma anche le aziende private gli enti privati gestiscono i dati predittivi sul futuro perché tante volte è più importante cosa succederà dopo che non di cosa sia successo bellissima domanda no allora diciamo noi diciamo per una questione di scelta non facciamo previsioni perché l'istituto ha un sistema di misurazione di carattere documentativo tendenzialmente noi siamo chiamiamoli hard data perché fondamentalmente tutti i nostri dati si basano sulle scelte dei consumatori sui prezzi sui bilanci delle imprese quindi noi andiamo sulle fatture noi andiamo sempre a quello che noi facciamo essenzialmente aggregare i dati e renderli rappresentativi per la collettività ma sono dati che sono accaduti esiste la necessità di andare sempre più sul forecasting e questo noi in parte lo facciamo perché abbiamo acquisito qualche anno fa l'ISAE che era l'istituto superiore dell'analisi economica che faceva delle indagini sui climi di fiducia quindi noi l'ISTAT avendo acquisito l'ISAE ha mantenuto questa indagine sul sentiment quindi esiste un pezzo che non è statistico ufficiale perché tutta sta roba ha un regolamento comunitario il sentiment ha un contratto con la commissione europea quindi noi stiamo anomali perché facciamo l'indagine sul sentiment e devo dire una bellissima domanda che l'indicatore che l'indicatore sul sentiment previsivo qualitativo meteopatico emotional è quello che tutti guardano quindi essenzialmente quando esce il dato sul sentiment tenete conto che l'analisi di sentiment si può fare o con una rilevazione come fa l'ISTA anche con dati di twitter tenuto conto che twitter ha una distorsione di chi va su twitter che è più figo di chi non ci va quindi qualche problema ce l'ha diciamo di rappresentatività però noi abbiamo effettivamente i dati però magari la tua cosa poteva bilanciare la distorsione però volevo dire che effettivamente c'è una domanda molto forte di dati predittivi questo è reale ecco quello che noi possiamo fare è che le banche dati dell'ISTA quando te le scaricherai un giorno o una sera sono talmente granulari quindi dettagliate che sono un'ottima base per fare previsioni noi tendiamo a non fare previsioni perché nell'ipotesi predittiva devi introdurre troppi elementi assunzionali che l'istituto diciamo ora quando fai un modello previsivo è difficile non essere soggettivi e poi c'è tutto l'altro tema che è quello delle valutazioni delle politiche quindi come si fa una politica valutazione ex-ante valutazione ex-post i temi sono un po' ogni cosa ha la sua metodologia quindi torniamo al discorso dell'indipendenza dell'ISTA è molto bella la domanda anche perché ovviamente c'è bisogno di predizioni però le predizioni Stefano ha appena detto noi diamo i dati grezi le previsioni le fanno i privati o comunque enti interessati stakeholders e chi è più bravo è quello che è successo sul mercato o comunque nell'azione da svolgere questo perché però ripeto in un'altra parola quello che ha già detto Stefano ci sono degli input soggettivi nella previsione che rendono che diversificano le capacità dei diversi dei diversi stakeholder e l'ISTA non vuole fare scelte politiche perché è servizio della comunità non vuole fare scelte soggettive perché favorirebbero l'uno o l'altro partito partito nel senso di stakeholder credo di capire e quindi non le fa questo mi sento molto bello per l'altro volevo farti anche una domanda sull'indipendenza dell'ISTA perché ha insistito spesso su questo punto però voi siete parte del governo in un certo senso poi rispondo a questa domanda la risposta è come dipendenti pubblici sì come autonomia assolutamente siamo indipendenti però diciamo ma c'è una cosa interessante perché noi ereditando tutta questa eredità di modellistica previsiva specialmente sul PIL eccetera eccetera a un certo punto noi pubblichiamo una nota mensile che è uscita da ieri fondamentalmente che all'inizio era molto spinta nel senso di interpretativa quando è arrivata dall'ISAE adesso è diventata quasi un riassunto delle puntate precedenti molto ammorbidita appunto perché è rientrata in un'oggettività quella nota è arrivata all'ISTAT dieci anni fa e ci aveva la previsione del PIL per due anni dopo cioè i due anni successivi al buio il mio capo dipartimento Roberto Monducci che forse sale conosciuto lui ha detto metteteci in intervallo di confidenza c'è una questa cosa è una persona geniale però la cosa incredibile è che voi vedevate la crescita del PIL poi vedevate la proiezione del PIL è un intervallo di confidenza così che non diceva assolutamente niente si allargava e quello è stato sia la scaltrezza della persona che è stata la persona che mi ha formato diciamo all'istituto ma anche l'oggettività cioè io dimando un trend del 5% ma l'intervallo di confidenza significa che il valore reale al 95% sta su quella forbice o al 90% se quella forbice divaria tra una crescita positiva e una negativa che ti sto dicendo che non lo so la risposta è non lo so e nessuno lo sa a meno di mettere una serie di ipotesi ecco l'unica cosa in cui dove andiamo invece a dare delle proiezioni a 20-30 anni che noi abbiamo anche un presidente in questo momento il professor Brangiardo che è un demografo di fama quindi una persona che conosce bene la demografia ma prima di lui lo facevamo noi diamo le proiezioni demografiche avanti di 20-30 anni ecco questo si fa perché il comportamento demografico è più lento io non so cosa succede al PIR perché la guerra in Ucraina la crisi energetica un intervallone di confidenza così no purtroppo la dinamica della popolazione italiana con la componente di immigrati senza tutte valutazioni che uno statisticamente fa no è quella cioè nel senso stiamo il presidente la chiama l'inverno demografico cioè tendenzialmente noi siamo destinati a perdere il 20-30% della popolazione a breve nei prossimi 20 anni diciamo se questi tre in prima fila fanno dieci figli non succede niente è uguale quindi non vi sforzate perché è un declino di questo tipo potrebbe essere che con politiche della famiglia con cambiamenti valoriali profondi si inverta ma implica cambiare una cultura di un paese e anche avere un sistema di welfare che fa asili nido quindi potrebbe essere che col PNRR si riesce a sviluppare degli asili nido che almeno la componente economica per cui non si fanno figli potrebbe venire in meno ma rimane sempre a mio avviso una componente di tipo un po' più psicologico e culturale sull'indipendenza da questo punto di vista noi siamo un ente vigilato l'ISTAT non dipende da nessun ministero o meglio noi siamo vigilati praticamente dal dipartimento della funzione pubblica però siamo totalmente indipendenti il presidente viene eletto con una procedura che passa per il Parlamento quindi su proposta del presidente del consiglio poi ci sono esami di commissioni parlamentari quindi è una figura accademica diciamo di elevata reputazione il presidente è il garante della qualità diciamo scientifica del dato poi ci sono a scendere tutta una serie di figure di carattere un po' più manageriale come la mia che siamo quelli che dobbiamo produrre il dato la vera la vera garanzia è da un lato nel fatto che il presidente dell'ente sia un professore dell'università e non sia un funzionario uno che magari è stato sottosegretario quindi ovviamente ha le sue idee ha le sue idee anche politiche anche religiose come ogni persona però è un professore universitario che garantisce la metodologia e poi i dati non escono dall'istituto e quindi ci sono la prima cosa che mi hanno insegnato è quella che il comunicato stampa io a 28 anni mandavo il comunicato stampa lo mandavo a quello che mi stava sopra che lo mandavo a quello che gli stava sopra che lo mandavo all'ufficio stampa e nessun altro vedeva niente e non sono mai usciti dati a parte qualche news però vabbè ok noi siamo portati a dire ma ci sono dei modelli poi possiamo scegliere che tecnica che algoritmo la qualità del dato ma può precisare meglio questo la soggettività della previsione grazie la previsione coinvolge una valutazione sul futuro e quindi specialmente nella sfera economica è importante che tutte le informazioni vengano usate comprese le valutazioni soggettive perché le aspettative razionali e anche non quelle razionali in economia sono molto importanti quindi se io azienda agisco su un certo mercato e faccio delle buone previsioni è giusto ed è naturale che venga premiato rispetto a un'azienda che fa delle previsioni cattive o che usa solo il machine learning questo lo dovevo dire questo lo dovevo dire che usa solo il machine learning e non mette del sentimento e non mette dell'animo dentro quello che sta facendo no questa è una battuta scusate è una battuta da brutto statistico però forse è un'osservazione corretta nel senso che in parte ci sono valutazioni soggettive in gran parte sono ipotesi da modello però quelle ipotesi da modello io le ho definite soggettive ma forse è meglio definirle arbitrarie cioè nel senso che diciamo che si basano su ipotesi di comportamento diciamo dell'economia che diciamo la modellizzazione la previsione del PIL tiene a tre mesi sei mesi già un anno diventa incerta a due tre è fantascienza quindi è chiaro che più il set informativo si riduce e più diciamo la qualità della proiezione diciamo decade quindi un parametro è quanto vogliamo andare avanti quindi previsioni a brevissimo si possono ragionevolmente fare perché c'è un effetto di trascinamento di quello che sta accadendo che inerzia quindi questo viene mantenuto ecco se invece vado o vado nel medio periodo devo cominciare a ipotizzare scenari alternativi quindi forse non è propriamente è in parte soggettività ma è anche un po' di arbitrarietà cioè non ho diciamo c'è un'ipotesi di invarianza quindi in questi sono modelli pluriequazionali con le funzioni il modello generale di Banca d'Italia poi ci sono quelli di Cambridge sono varie sono modelli che nel breve periodo funzionano perché diciamo i parametri del modello sono stabili poi inevitabilmente cambiano e non è facile prevedere il cambiamento quindi soggettività ma anche instabilità del parametro